Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto do il benvenuto a Mr. Ballardini. Penso che non ci sia bisogno di nessun tipo di presentazione particolare, visto un po' il suo curriculum, la sua storia. Noi siamo felici che lui sia qui con noi. Oltre a lui do anche il benvenuto ai suoi collaboratori, a Carlo Regno, che è allenatore in seconda, a Nicola Terroni, che è il collaboratore tecnico, e Daniele Caleca, che è il preparatore atletico. Per cui un grande in bocca al lupo. Credo che abbiamo tante cose da fare, per cui c'è da lavorare molto. Per cui do già la parola a Mr. Ballardini, augurandoli veramente un grande in bocca al lupo, sapendo che abbiamo tantissime cose da fare. Buongiorno, Filippo Marelli, TRC. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. È l'ennesima sfida della sua carriera. Perché ha accettato? Che idea si è fatta del Sassuolo, del momento del Sassuolo e di quello che verrà di qui in poi? Beh, intanto il Sassuolo ha pensato a me e questo mi fa piacere. Perché il Sassuolo è una società che tanti, tanti nella mia situazione hanno piacere di essere a Sassuolo. Mi sentite? Mi sentite? Mi avvicino? Va bene così? Intanto dicevo ringrazio la società che ha pensato a me e niente, io sono davvero contento perché per me il Sassuolo in una situazione del genere, lo dicevo anche ai miei collaboratori, l'unica società davvero che poteva essere la nostra società in questo momento, l'unica società è il Sassuolo, in una situazione del genere, perché altrimenti non avremmo accettato nulla se non il Sassuolo, sempre che il Sassuolo pensasse a noi, ecco. Prego. Ecco, volevo solo andare avanti alla seconda parte della domanda che avevo fatta, insomma, cosa si aspetta adesso da un punto di vista tecnico? È chiaro che i numeri del Sassuolo sono quelli che hanno portato al cambio della guida tecnica, c'è stata la sconfitta ultima, piuttosto pesante, contro il Napoli. Dove andare a operare? Lei, insomma, di queste situazioni a metà anno ne ha già avute, quali sono le cose dove andare? Immagino che abbia visto le ultime partite del Sassuolo. Sì, sì, ho dormito poco, abbiamo dormito poco perché l'abbiamo visto tanto, ma quando noi arriviamo, cerchiamo di farci conoscere, cerchiamo di far capire a loro che cosa chiediamo, è chiaro che in due giorni non puoi stravolgere nulla, magari ti concentri su due aspetti, diciamo così, l'aspetto, parlo in linea generale, l'aspetto difensivo di squadra, l'aspetto offensivo di squadra, come ho detto, dai due concetti in fase offensiva, dai un'idea di come tu vuoi che la tua squadra difenda, ma è chiaro che tutto questo lo migliori nel tempo, no? Però tutto questo passa dal rapporto, dal coinvolgimento, dal miglioramento, ecco, e una cosa per me fondamentale è l'atteggiamento, lo spirito che devi avere, ecco, questo è fondamentale. Il Sassuolo ha il dovere di avere un atteggiamento, uno spirito sempre corretto, sempre giusto. Poi puoi sbagliare, puoi fare una partita non buona, ma l'atteggiamento non va mai sbagliato, ecco. L'approccio, la partita, lo spirito non va mai sbagliato. Prego. Buongiorno. Il microfono. Vado io, poi te lo passiamo. Nicola Zanarini, TGR Rai Ville Romagna. Salve. Salve Ballardini. L'altra sera abbiamo visto un paio di errori gravissimi, difensivi, si vede che i ragazzi non sono tranquilli. Proprio è una questione più di testa, tecnica, lei agirà più sulla psicologia, sulla tattica, la tecnica, qual è delle due la cosa che la preoccupa di più o che la stimola di più? Ma i ragazzi non devono essere tranquilli, perché è una situazione che devi comprendere che è un momento difficile, ma è chiaro che, come ho detto, nelle difficoltà tu hai il dovere di tirare fuori il meglio di te, perché è troppo facile quando le cose, l'uomo, la professione che svolge, è bello, è bello anche affrontare delle difficoltà, è bello affrontare delle difficoltà enormi e qui in questo momento ci sono delle difficoltà elevate, ma l'uomo, la professione, il giocatore viene messo alla prova, la squadra viene messa alla prova e quindi è tutto molto stimolante tutto questo, ecco è uno stimolo, perché ci vogliono anche questi momenti, credo, perché così ti fai capire, capisci che persona sei e se magari c'è qualcosa da migliorare perché il momento lo richiede. Le sue operazioni di salvataggio sono quasi sempre riuscite, con pochissime eccezioni, una ricorda Bologna che l'ho vista da vicino, la Diamanti l'ho persa all'ultimo momento, qua Berardi torna, quindi magari questo può essere un po' un trend diverso. Beh, con Diamanti il Bologna era salvo, ma lì era un'altra cosa, e qui Berardi, sì, Berardi adesso sta bene, nei due giorni sia ieri, ieri era venerdì, che oggi lui si è allenato con la squadra, quindi è a disposizione, sta bene. Buongiorno mister, Niccolò Ceccarini, tutto Mercato Web, visto che domani c'è la prima partita, e quindi insomma si gioca uno scontro diretto col Verona, qual è la cosa che ha chiesto alla squadra in vista della partita di domani, a parte il risultato che penso sia l'aspetto principale? Allora, in questi due allenamenti noi abbiamo, li abbiamo fatti, hanno giocato molto, molto. Considerate che hanno fatto due partite in quattro giorni, no? Quindi hanno giocato, mi pare, sabato scorso, poi hanno giocato mercoledì sera. E quindi ieri li abbiamo osservati, hanno, in una seduta di un'ora e dieci comunque hanno, hanno, si sono mossi, hanno corso, hanno giocato. Oggi siamo stati un po' più tranquilli perché abbiamo fatto, diciamo così, della didattica difensiva, della didattica offensiva, anche perché del tempo non ce n'è tanto. L'idea che ci siamo fatti è che noi siamo contenti di avere questo gruppo di ragazzi. Cioè ti danno delle sensazioni positive perché c'è, c'è serietà, c'è impegno, vedi che c'è anche, sono legati tra di loro perché sono amici tra di loro. Come ho detto, ecco, magari questa è una cosa che dirò magari domani, prima della partita, la domanda che mi faceva. E' chiaro che tutto questo, perché c'è tanto di buono, però dopo bisogna, come hanno detto magari i ragazzi tifosi, quelli che sono venuti a sostenersi, dopo oltre a questo, alle qualità, all'essere per bene, ad essere seri, ad essere anche coesi, bisogna avere una fame, bisogna che il fuoco sia veramente acceso. Però ecco, ci sono delle basi e delle premesse per me ottime per fare bene. E' chiaro che vai a giocare contro una squadra che fa del furore, della corsa, dell'aggressività, è una squadra molto fisica. Quindi se tu li affronti, parlo della partita di domani, se tu li affronti pensando di essere più bravo di loro, pensando di poter così essere, di prevalere con le tue qualità senza metterci quello spirito, quell'atteggiamento che serve, quell'attenzione, quella determinazione che serve, non va bene, non va bene perché oltre alle qualità serve quello che ho detto, l'attenzione, la determinazione, proprio quel furore agonistico che è fondamentale per poi far esaltare tutte le altre qualità, ma insieme. Ecco, una cosa importante è insieme, vivere la partita, ogni momento della partita, insieme. Buongiorno, mister. Non mi hanno mai parlato così tanto in vita. Sono Luca, a Settegolde. Buongiorno. Ben arrivato, naturalmente. Al di là della situazione psicologica, i ragazzi ovviamente, come dice appunto prima lei, stanno attraversando un momento un po' delicato, c'è anche un fattore, diciamo così, pratico di troppi gol incassati di questa difesa. Come ha pensato magari di sistemare questo reparto che forse è quello un pochettino più in difetto? Ma per me le responsabilità io non le vedo solo nei quattro difensori. Non è così. È una responsabilità di squadra. Perché se tu sei corto, sei compatto, sei, diciamo così, solido, anche quando attacchi, sei, perché la fase difensiva, la prima qualità, quando tu, quando gli altri non hanno la palla, è l'attenzione, è il coprire bene il campo, e avere le distanze corrette tra i reparti e tra i giocatori di reparto. Quindi, se tu sei ben posizionato, anche quando attacchi, perché il Sassuolo spesso va in difficoltà quando magari ha anche la palla, che poi perdi la palla, sei mal posizionato, e quindi dopo subisci delle azioni pericolose. Ma certamente la responsabilità non è dei quattro difensori, certamente no, è della squadra. La squadra deve, gli attaccanti devono dare una mano, i centrocampisti devono essere bravi a far da filtro, devono essere bravi a pressare il portatore di palla, devono fare in modo che la palla agli attaccanti avversari non arrivi facilmente, devono fare in modo che gli spazi per gli attaccanti avversari siano ridotti e allora la difesa e i difensori hanno dei vantaggi. Quindi è un aspetto generale, non di reparto. Prego. Giorno, mister Antonio Parrotto, Sassuolo News.net. Le volevo chiedere una cosa, restando in tema difesa, però sui portieri, qui ci sono due ottimi portieri come consigli a Cragno. Ha pensato a chi sarà il titolare da qui alla fine? Grazie. Questo è un problema che non mi sono posto. Quindi non ci ho pensato perché mi sembra abbastanza chiaro. Prego. Adesso tocca a te. Salve, mister. Si ricorda. Certo, mi ricordo. Volevo dire, venendo la partita di domani contro il Verona, Sassuolo ha sempre sofferto la fisicità negli anni scorsi, passati. Pensa che di introdurre qualche leggero cambiamento? No. perché lei è sempre stato un diciamo produttore della difesa a tre e a parte a Cremona dove ha schierato una difesa a quattro. Ma pensa domani di apportare qualche cambiamento o no? Tanto noi abbiamo sempre giocato nei nostri anni siamo partiti con la difesa a quattro sempre Palermo ancora prima Cagliari e poi abbiamo sempre fatto poi dopo la difesa tre l'abbiamo l'abbiamo abbiamo iniziato a giocare con la difesa tre a Genova nel Genova e questa è una squadra che è stata costruita in modo molto chiaro quindi le caratteristiche dei giocatori sono ben chiare e noi non dobbiamo fare altro che con queste caratteristiche creare una squadra che sia chiara che sia brava nelle due fasi di gioco che abbia come ho detto prima un atteggiamento giusto un approccio giusto alla partita e come hai detto giustamente tu il Verone è una squadra molto fisica molto semplice nel gioco ma proprio nella semplicità nella fisicità nel nell'agonismo che loro ci mettono loro mettono in difficoltà tutti quindi quindi tu hai il dovere di giocartela con loro con quelle cose lì anche tu devi avere quella chiarezza devi avere quella solidità devi avere quel furore per giocartela con loro poi è chiaro che noi abbiamo le nostre qualità e il Verona ha le sue qualità però non puoi non puoi essere da meno ecco in quel senso lì buongiorno mister Stefano Fogliani resto del Carlino le chiedo solo una cosa una considerazione sulla classifica siete in bagarre evidentemente con 5 squadre in 3 punti la corsa si è fatto l'idea su chi va da fatta o qual è l'avversario che teme di più l'avversario che temo di più è il Verona perché giochiamo domani contro il Verona e per me tutta l'attenzione tutto tutto quello che 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 così si deve fare e si deve fare bene bisogna che lo mettiamo già in campo domani quindi l'attenzione la concentrazione tutto tutti i nostri sforzi mentali fisici bisogna che li mettiamo in campo domani poi dopo pensiamo ad altro ma una cosa alla volta ecco quindi questo è buongiorno mister Mattia Bannò di Canale Sassuolo e appunto facendo la conta degli infortunati dei chi rientra Berardi ci sarà un po' la notizia che vogliono sapere anche per esempio qui l'hanno visto e anche Erlich e poi un'ultima domanda che un po' l'ha accennato su come entrare nella testa di questi ragazzi che rispetto magari ad altre sue esperienze forse ad inizio stagione non pensavano di fare questo tipo di campionato grazie allora i due che hai detto rientrano sono a disposizione i ragazzi non sono stupidi tutti io adesso in questi due giorni non è che li abbia conosciuti così attentamente insomma in modo molto approfondito però mi sembra di avere a che fare con dei ragazzi intelligenti quindi non sono stupidi il momento lo hanno ben chiaro e quindi se hanno capito il momento allora se non non tirano fuori tutto quello che hanno insieme ecco allora magari non abbiamo capito qualcosa noi ma io sono certo che i ragazzi hanno capito il momento sono certo che non possono far altro che legarsi ancora di più sono certo che prima delle loro qualità fisiche dovranno mettere in campo qualcos'altro sono certo perché se non metti in campo qualcos'altro tu non vai da nessuna parte bene grazie grazie a voi buon lavoro vediamo il mister buona giornata buongiorno direttore come nasce partiamo dall'inizio insomma come nasce la scelta di di Ballardini dopo l'allontanamento di Dionisi c'era appunto la parentesi di Bigica la scelta su un allenatore esperto per questo tipo di situazioni forse non particolarmente in linea con la tradizione recente del Sassuolo ma appunto una persona che sa come affrontare queste situazioni e per un periodo probabilmente anche breve immagino che forse nel contratto nell'accordo ci sia un rinnovo in caso di salvezzo comunque se ci può spiegare com'è il tipo di accordo grazie buongiorno innanzitutto io vorrei fare un ringraziamento al lavoro svolto da mister Dionisi che sicuramente come società ci è dispiaciuto il suo esonero ma anche perché non siamo abituati perché in questi anni la società ha sempre dimostrato di creare un rapporto con l'allenatore che sia più duraturo possibile e chiaro che dopo varie sconfitte siamo stati anche costretti a farlo per cui ringrazio lui per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo un lavoro comunque che ci ha portato comunque a ottenere sempre anche in questi anni dei buoni risultati nello stesso tempo ringrazio anche mister Bigica che con lui c'era già un accordo di un di poter diciamo essere parte della partita con il Napoli ma era un discorso momentano per cui era già tutto preventivato per cui non non è che sicuramente la partita del Napoli è costato il posto assolutamente no perché eravamo già d'accordo con lui mister Bigica fa parte un po' della nostra famiglia perché ormai è qui da quattro anni allena in modo virtuoso la primavera per noi il settore giovanile è importante e sta di fatto che è rientrato subito nei ranghi della primavera e la scelta di mister Ballardini è stata fatta proprio perché crediamo che in questo momento per quello che occorre in questa squadra sia il profilo più giusto per cui questa è stata un po' la scelta a cui è ricaduto non entra nella nostra filosofia ma può essere però credo che in questo momento c'è ben altro che va di là della filosofia perché dobbiamo portare a caso il risultato che come quello che è stato fatto negli anni passati anche con mister Iachini per cui siamo contenti abbiamo fatto una scelta con il nostro editor sportivo con Giovanni Rossi per cui di questo diciamo siamo convinti che in questo momento sia il profilo più adatto per quanto riguarda visto che mi hai fatto la domanda anche della durata del contratto la durata del contratto ha una scadenza a giugno per cui non c'è previsto nel rinnovo o meno siamo liberi entrambi di poter fare le giuste valutazioni vedendo un po' sperando soprattutto e sono anche convinto di poter rimanere in questa categoria Buongiorno come accennava erano più di sei anni che non c'era un esonero da queste parti e cosa risponde a chi spera che il Sassuolo non essendo abituato da quei tempi a lottare per la salvezza sia un po' una delle candidate principali a retrocedere chiaramente con l'arrivo di Ballardini si spera in una scossa e quindi che questo non accada Speriamo che ce ne siano poche di queste squadre che sperano o di persone che sperano nel Sassuolo che ma il Sassuolo ha una sua storia sono 11 anni di Serie A per cui un percorso di grande crescita e 11 anni consecutivi per cui credo che sia stato fatto qualcosa di straordinario ma vogliamo continuare a farlo per cui oggi crediamo che ci sia una necessità e giustamente noi stiamo cercando come società di valutare di guardare qual è la miglior soluzione in questo momento e oggi siamo convinti che la miglior soluzione sia con Mr. Ballardini per cui noi dobbiamo dare continuità a quello che è il progetto di questa società sapendo benissimo perché ogni anno sappiamo che nella Serie A è un campionato difficile per cui ci sono sempre almeno circa noi lo diciamo sempre il campionato è diviso un po' in due in due fasi la prima in due fasce dieci squadre che partecipano per delle competizioni altre dieci magari che partecipano per altre per non retrocedere noi quest'anno siamo in questa situazione in questa condizione speriamo di venirne fuori al più presto siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono però siamo anche consapevoli che abbiamo comunque dei giocatori come diceva Mr. Ballardini che possono aiutarci e possono dare anche qualcosa di più di quello che è stato fatto fino adesso Buongiorno direttore Dunque innanzitutto faccio i miei complimenti per quello che sta facendo qui a Sassuolo veramente soprattutto quando si dice c'è Bottega Cara quella di Sassuolo insomma diciamo che i conti riescono sempre a tornare a casa mi permetto di fare un'osservazione in merito al mercato di queste state in modo particolare dopo che è uscito Chia Coppolo Marchizza e Rogerio non ci sono stati diciamo i ruoli che sono rientrati più o meno come loro c'è stato c'è stato Vigna che era uno comunque molto spesso Dionisi ha dovuto giocare con un difensore con l'altro piede per intenderci chiedevo come mai non c'è stato un ricambio di questi che sono partiti beh credo che guarda una cosa è certa in questa società le scelte tecniche al di là della società per cui mie di Giovanni Rossi e così via del tutto lo scouting vengono sempre fatte con l'allenatore c'è una società qua che non è mai stata presa una decisione di prendere un giocatore indipendentemente dalla volontà dell'allenatore per cui la squadra la si costruisce assieme e crediamo di averla costruita nel modo migliore per quel momento per cui sapendo che avevamo dei giocatori a destra che potevano alternarsi giocando anche a sinistra cercando di puntare sempre su dei giocatori anche giovani perché anche nel mercato di gennaio comunque abbiamo acquistato un giocatore come i Doighe che è un giocatore che magari sì potevamo prendere magari un giocatore con più esperienza però abbiamo preferito continuare un po' nella nostra filosofia visto che si parlava prima di modo di filosofia puntando su un giovane puntando su un giovane di qualità sapendo un po' dei rischi che dobbiamo correre però questa è un po' la nostra volontà il nostro desiderio e siamo convinti che con questi ragazzi dobbiamo sempre crederci se no tante volte si rischia poi di far confusione credo che nel sogno di calcio la cosa più importante è cercare di far meno confusione possibile prego buongiorno Carnevali chi non ricorda il patron di Mapei Giorgio Squinzi i suoi obiettivi le sue ambizioni di puntare sempre più in alto quindi su tutte l'Europa League alla quale il Sassuolo Calcio ha partecipato qui abbiamo visto nel tempo che questi obiettivi sono un po' scemati cioè nel caso il Sassuolo dovesse salvarsi cosa che ci auguriamo tutti gli obiettivi del Sassuolo Calcio futuri sono quelli di una salvezza tranquilla o si punta e si può puntare ancora più in alto ma quello che ci ha insegnato il nostro patron Giorgio Squinzi per noi è ben chiaro e ce lo portiamo non soltanto nel cuore ma anche nel pensiero quotidiano su quello che dobbiamo fare credo che da parte anche con lui abbiamo passato dei momenti difficili perché ci sono stati anche dei momenti in cui eravamo in difficoltà però l'ambizione ce l'abbiamo tutti noi siamo una società ambiziosa però dobbiamo anche essere realisti cioè essere realisti delle difficoltà che ci sono prendiamo anche delle società del nostro campionato che magari l'anno scorso due anni fa erano in difficoltà e magari adesso sono nelle zone più alte della classifica per cui credo che tutti dobbiamo cercare di lavorare per fare del nostro meglio poi voi benissimo sapete che questa è una società che è gestita come un'azienda e come tale azienda deve essere una società sana deve essere una società che lavora in modo serio e quando si parla di essere una società sana si parla di essere una società che ha dei conti in ordine per cui cosa che è questo purtroppo nel nostro campionato in tante società non accade per cui magari è molto più facile fare i debiti società che magari possono rischiare l'osso del collo e magari avere e fare anche altrettanto acquisti non siamo fatti così non l'abbiamo mai fatto in tutti questi anni il nostro compito è quello anche di valorizzare i giovani per cui per noi è un onore anche un fiorello avere giocatori che oggi che oggi giocano nei grandi club e oppure magari se pensiamo che ne parlavo con il mister Sparletti in occasione della partita inter-Juve che l'abbiamo vista assieme la zona italiana ha quasi sette giocatori che giocano nella prima squadra per cui un qualcosa di straordinario che magari nei tempi non si era mai pensato che potesse accadere però l'ambizione c'è e oggi dobbiamo pensare a una cosa portare a casa il risultato questa stagione buongiorno Giovanni mi ripresento ma ci conosciamo da molto tempo Niccolò Ceccarini tutto Mercato Web la mia domanda è molto precisa Giovanni e riguarda Berardi tu hai fatto mille battaglie per tenerlo di fronte a avanze importanti gli hai rinnovato il contratto e questa squadra quando non c'è stato Berardi sicuramente accusato anche nel rendimento del campionato pensi che possa essere lui l'uomo trascinatore per questo finale cioè è lui che conosce questa squadra questo posto questo ambiente come casa sua da cui ti aspetti qualcosa in più in questo finale oppure basta che faccia al solito Berardi io mi aspetto qualcosa in più da parte di tutti non soltanto di Domenico ma di tutti i giocatori purtroppo quest'anno Berardi ha giocato meno del previsto per cui ha saltato tante partite basta vedere i dati nel momento in cui non gioca Berardi la squadra non fa bene per cui Berardi è il nostro campione Berardi è il giocatore di riferimento il giocatore di punta noi abbiamo fatto tante battaglie ma siamo abbiamo sempre deciso assieme su quello che poteva essere il futuro credo che Domenico possa darci una grande mano per venirne fuori perché lui è un giocatore di grande qualità sia sul campo ma anche fuori per cui lo stiamo aspettando già da tempo da un po' di partite speriamo che adesso sia la volta buona e che ci aiuti a uscirne fuori da questo momento Buongiorno direttore Antonio Barrotto Soro News allora lei prima diceva che in questi 11 anni avete fatto qualcosa di straordinario per mantenere la categoria con continuo ordine e sono veramente d'accordo quest'anno però le cose non stanno andando benissimo e le chiedo a gennaio sono arrivati solo le metto tra virgolette due giocatori Doig e Kumbulla che era infortunato forse almeno questa è la mia idea forse la squadra aveva anche bisogno di qualche altro rinforzo avete un po' le chiedo tra virgolette sottovalutato il problema durante il mercato di gennaio cioè si poteva fare qualcosina in più grazie figurati allora sottovalutato no perché noi cerchiamo di fare le cose del nostro meglio poi è chiaro che qualche errore si può fare quando ci sono queste situazioni gli errori devono essere un po' da parte di tutti da parte della società da parte dell'allenatore da parte dei giocatori per cui non dobbiamo tirarci indietro nessuno credo anche che le valutazioni che sono state fatte senza sottovalutarle erano valutazioni perché in quel momento e come dicevo assieme anche al nostro allenatore le scelte sono state condivise un po' da parte di tutti noi per cui se i risultati magari non stanno venendo vengono meno e come dicevo prima dobbiamo un po' valutare un po' tutte le varie quello che è stato fatto ma poi penso che le valutazioni noi stessi le facciamo le facciamo quotidianamente per cui siamo i primi a cercare di capire se ci sono stati degli errori in che modo abbiamo sbagliato in che modo possiamo recuperare ma nel momento della pausa di gennaio della sosta di gennaio credevamo che la cosa migliore poteva essere quello che abbiamo fatto Un'ultima battuta sull'apporto dei tifosi anche oggi presenti qui quanto può essere importante appunto il loro apporto in queste ultime finali per la salvezza Ma sai per noi i tifosi sono importantissimi perché non è inutile negarlo Sassuolo è una città con 40.000 abitanti tifosi ne abbiamo sicuramente meno di tutte le altre squadre ma quelli che ci sono 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 molto importanti è la dimostrazione che anche oggi in un momento che magari in un momento in cui c'è la preparazione alla partita per cui non è un momento solito che una società ti dia questo tipo di opportunità per noi fanno parte della nostra famiglia per cui quello quello che fanno perché poi c'è il massimo rispetto proprio da parte di tutti e credo che anche oggi l'abbiano dimostrato incitando la squadra dando quel supporto che tutti dobbiamo dare buongiorno ciao buongiorno una delle poche cose positive della partita di mercoledì è stato l'esordio di Cumi il settore giovanile sta facendo un grande lavoro Bigica sta facendo un grande lavoro e le chiedo se nell'ottica appunto di puntare sui giovani c'è anche un po' l'obiettivo forse di puntare un pochino più sui giovani che crescono qua perché abbiamo visto arrivare Missori Volpato però molte volte molti dei ragazzi che invece vengono su qua stavano in prestito altrove quindi vi chiedo se anche questo può essere un modo per ripartire ma sai il settore giovanile sta facendo un ottimo lavoro e c'è stato l'esordio di Cumi ma in un momento difficile anche giovani interessanti ne abbiamo chiaro che anche il fatto di avere i giovani nostri che sono che stanno giocando in altri club in alcuni club di serie B piuttosto che di serie C è un percorso il percorso di crescita che noi dobbiamo capire qual è il loro percorso più importante per far sì che possano ritornare alla base ed essere giocatori da inserire nella nostra squadra per cui le valutazioni che facciamo sono valutazioni un po' generali può darsi che magari andiamo come abbiamo fatto quest'anno con la Roma Messori Volpato perché crediamo che siano giocatori di ottima prospettiva di grande qualità e che possono magari già entrare a far parte della nostra squadra come lo stanno già facendo altri magari che abbiano necessità di avere un percorso differente ma l'importante è non lasciarli andare cercando appunto di valutare quando è il momento giusto per poterli dopo riportare nella prima squadra bene grazie grazie a voi grazie